Rieccoci e ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Floridia dove i carabinieri hanno tratto in arresto una 36enne che dopo aver abbandonato la comunità di San Patrignano aveva fatto ritorno in Sicilia, come detto però i militari dell'arma lo hanno arrestato per evasione. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno tratto in arresto un pregiudicato 36enne del posto per il reato di evasione. L'uomo è stato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti commessa a Floridia nell'estate del 2022 e dopo un periodo di detenzione in carcere ha ottenuto il beneficio di scontare il resto della pena presso la comunità di San Patrignano, sita a Coriano dove era ospitato dallo scorso dicembre. Tuttavia nei giorni scorsi il 36enne ha deciso di abbandonare la struttura ed è tornato a Floridia dove i militari dell'arma lo hanno arrestato per evasione e posto ai domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. A Ragusa invece i carabinieri hanno effettuato un doppio arresto, due soggetti entrambi accusati di furto. Vediamo i dettagli nel servizio. I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Ragusa-Ibla hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne e un ventottenne, entrambi ragusani, per furto aggravato in concorso. La vicenda trae origine dalla segnalazione al 112 da parte di un residente che aveva notato che uno degli infissi del convento di Santa Maria del Gesù, attualmente sottoposto a lavori di restauro, era stranamente aperto. I carabinieri sono quindi intervenuti prontamente constatando che uno degli infissi della parte superiore del convento era stato forzato. Ispezionando il gli uomini dell'arma hanno notato la presenza di due persone intente a nascondersi alla vista degli operanti dietro due colonne. I due, immediatamente fermati, avevano con loro una borsa in plastica rigida contenente arnesi da scasso, cavi e tubature in rame. In effetti, dalla struttura erano state tagliate diverse tubature e condutture in rame, danneggiando le infrastrutture del convento e provocando danni per oltre 15 mila euro. Per queste motivazioni, i due ragusani sono stati arrestati dai carabinieri per il reato di furto aggravato in concorso e collocati ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Da Ragusa a Catania, dove un cinquantenne vendeva su WhatsApp farmaci e anabolizzanti reperiti sul mercato nero. Per lui è scattata la denuncia. I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un cinquantenne con precedenti per episodi analoghi ritenuto responsabile di commerciare abusivamente a Catania e provincia farmaci per aumentare le prestazioni sessuali e anabolizzanti sostanze chimiche dopanti utilizzate per aumentare le prestazioni fisiche. Gli agenti hanno accertato che l'uomo reperiva su siti esteri non autorizzati farmaci e sostanze per i quali è necessaria la ricetta medica ed altamente pericolosi per i soggetti cardiopatici. L'uomo, che svolge l'attività di rappresentante di integratori e proteine, rifornendo diverse palestre dell'Interland cittadino, vendeva ai farmaci le sostanze vietate sotto banco con il sistema del passaparola. Nello specifico, i farmaci venivano recapitati agli acquirenti attraverso un servizio di consegna a domicilio o attraverso spedizione postale, mentre il pagamento avveniva in contanti nel primo caso o attraverso denaro su un conto intestato all'uomo. Sul telefonino del cinquantenne era presente una lista con centinaia di clienti con continui ordini di farmaci e di anabolizzanti che venivano effettuati per telefono o tramite il canale WhatsApp. Tra questi, i farmaci più richiesti erano senza dubbio quelli funzionalmente volti a migliorare le prestazioni sessuali, complice probabilmente anche l'imminente festività di San Valentino, viste le pressanti richieste di riceverli prima di quella data. Tale attività illecita risultava particolarmente redditizia, fruttando all'uomo diverse migliaia di euro a settimana, circa 3.000 euro. In particolare, le pillole per aumentare le prestazioni sessuali venivano vendute, a seconda della tipologia e della quantità di principio attivo, a prezzi che oscillavano dalle 2 alle 5 euro cada una, mentre per un intero blister con otto compresse occorrevano circa 50 euro. Peraltro, molte pillole vendute singolarmente senza blister risultavano già scadute da mesi e vendute a prezzi più bassi agli ignari acquirenti. Durante la perquisizione a casa del soggetto sono state rinvenute ulteriori confezioni di farmaci per la cui vendita occorre la prescrizione medica. Sulla base di quanto accertato, il 50enne è stato denunciato per i reati di commercio di medicinali guasti, somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica, venduti senza ricetta e importazione di medicinali non autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Tutti i medicinali sono stati sottoposti a sequestro penale. Una donna è stata invece denunciata dai carabinieri a Castelvetrano. Era infatti evasa dai domiciliari per andare a commettere un furto. I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato una 37enne del posto gravata da pregiudizi di polizia per i reati di evasione e furto aggravato. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal titolare di un'attività commerciale al quale, durante la notte, previa forzatura della porta di ingresso, erano stati rubati vari articoli dalle scaffalature nonché il denaro contenuto nel registratore di cassa. Dall'estrapolazione dei filmati di videosorveglianza dell'attività è stata identificata la 37enne che avrebbe messo a segno il furto, benché sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Come detto, la donna è stata denunciata dai carabinieri. Cambiamo decisamente argomento. Parliamo adesso di un progetto che riguarda il porto di Palermo, ovvero un sistema digitale per la gestione del sistema idrico del porto. Un sistema digitale di controllo in tempo reale per monitorare consumi, perdite, pressioni nel sistema idrico del porto di Palermo, che contribuirà, con 210 punti di misurazione collegati in rete, ad azzerare dispersioni non solo d'acqua ma anche di energia. Un progetto ambizioso, quello portato avanti in partnership da OSP, Operazioni e Servizi Portuali, e Blu, Gold, che dopo un percorso durato quasi due anni, manda finalmente in soffitta un sistema in cui tutti i processi, dall'immissione di acqua in circuito alla lettura dei contatori e all'annotazione dei consumi, avveniva manualmente. Palermo diventa così uno dei primi porti in Italia ad avere una rete wireless che garantisce 480 letture dei contatori idrici e la loro relativa pressione in bar ogni 24 ore. Inoltre, il nuovo sistema consentirà di monitorare la rete e tutte le componenti ogni 3 minuti, in modo da avere sempre informazioni puntuali e la possibilità di intercettare in tempo reale eventuali perdite o dispersioni. Le tecnologie digitali e il cambio di paradigma che è derivato dal loro utilizzo, ha commentato Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, hanno trasformato la nostra quotidianità, il nostro modo di fare le cose. Nel porto di Palermo da anni ci muoviamo nel solco della digitalizzazione e quindi non possiamo che essere soddisfatti del risultato ottenuto dalla partnership tra Osp e Blu Gold, protagonisti di un nuovo progetto che costituisce un salto di qualità culturale verso la sostenibilità e l'innovazione capace di azzerare criticità e rischi nel settore idrico. Parliamo adesso di un'importante iniziativa riproposta anche quest'anno dalla regione siciliana rivolta ai giovani, ai giovani che vogliono praticare sport. Si tratta di voucher dedicati appunto ai più giovani appartenenti a famiglie con rendito basso ma che vogliono praticare attività sportive. Vediamo di che si tratta nel dettaglio grazie al nostro servizio. Torna anche nel 2024 il voucher per la pratica sportiva destinato ai minori dai 6 ai 16 anni. Sul sito istituzionale della regione siciliana è stato pubblicato il bando dell'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo rivolto a società e associazioni interessate ad aderire all'iniziativa introdotta l'anno scorso per volontà del presidente della regione Renato Schifani, con l'obiettivo di avvicinare allo sport bambini e ragazzi delle famiglie siciliane meno abbienti. Dopo l'ottimo risultato dell'anno scorso, con più di 6.000 giovani che hanno potuto usufruire del voucher, ha dichiarato l'assessore Elvira Amata, il governo Schifani ha più che raddoppiato la dotazione finanziaria per consentire di praticare sport a un numero ben maggiore di bambini e ragazzi che per ragioni economiche non avrebbero avuto la possibilità e una misura, ha aggiunto l'assessore, che ha un forte impatto sociale e culturale per i risvolti che la pratica dello sport, con le sue regole e i suoi valori, ha sulla crescita non soltanto fisica dell'individuo e per la prevenzione di disagio e devianza. La manifestazione di interesse è rivolta a nuove associazioni sportive con sede in Sicilia e affiliate al CONI o al Comitato Italiano Paralimpico, che si aggiungeranno a quelle che hanno partecipato l'anno scorso e inserite d'ufficio tra quelle aderenti. Il voucher sportivo, del valore di 50 euro mensili, è spendibile, nelle società aderenti, dai giovani residenti in Sicilia tra i 6 e i 16 anni e il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore ai 12.000 euro. L'importo stanziato nella finanziaria per quest'anno è di 3 milioni di euro. Parliamo ora di un importante evento che si è concluso a Catania, un evento di grande successo, Agata in Seno, la 22esima edizione della mostra dedicata a Sant'Agata. Ce ne parla Lucio Di Mauro. Nella sede di Catania Rete Gas si è svolto l'incontro conclusivo dell'evento Agata in Seno, un grande viaggio fatto da mille emozioni. Una vera missione è stata portare Agata dovunque. La docente Liliana Nigro dall'Accademia Belle Arti di Catania ci è riuscita grazie al supporto di tanti che credono in lei. Presente tra gli altri il presidente dei Catania Rete Gas Gianfranco Todaro, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, il direttore sanitario dell'Istituto Oncologico Humanitas Paola Pesce e il maestro Giuseppe Frezza. C'è stato anche un momento dedicato alla musica con il soprano Maria Grazia Tringale. Liliana ancora una volta ci hai emozionato con tanti eventi ma soprattutto in questo Agata in Seno. Oggi si chiude questa bella parentesi straordinaria. Hai toccato gli animi di tutti con perseveranza, con decisione e con tanto amore e passione che sicuramente ti distingue. Allora hai detto bene e vi ho emozionato ma per emozionarvi mi sono dovuta prima emozionare io. È stato un percorso, un travaglio enorme perché nessuno, qua non è l'ottava, è la quindicina, noi abbiamo fatto l'ottava, questa è la quindicina, finire Sant'Agata giorno 15 di febbraio è stato veramente duro. È stato un percorso in salita con molti ostacoli però io dico sempre che nella vita se non ci fossero gli ostacoli non potremmo goderci la pianura perché capiamo la diversità. Agata in Seno è la ventiduesima edizione di questa mostra incredibile che parla, racconta, vive Sant'Agata. L'abbiamo voluta raccontare presso l'Humanitas di Catania, il centro oncologico Humanitas insieme all'associazione il filo della vita diretto da Enza Marchica e con noi tra le nostre 176 modelle c'erano dieci ragazze che purtroppo avevano avuto e hanno ancora un tumore al seno. Noi abbiamo cercato di portare l'arte e trasmutarla come medicina perché d'altronde qualcuno più bravo di me prima di me diceva che la grande bellezza salverà il mondo. Noi ci abbiamo provato e vedere sorridere una ragazza in sedia a rotelle, una ragazza con un problema grave di 16 anni alla testa o altre ragazze che avevano la recitiva per la terza volta di un tumore mammario e dirmi grazie perché oggi non ho fatto la terapia e sto bene perché sono qua con voi. Io ho vinto. A Giardini Naxos ci si interroga invece sul futuro del Museo Civico Regionale. Sentiamo Mauro Romano. Giuseppe Leotta, rappresentante del Comitato Sud Chiama Nord. Ecco, siamo davanti al Museo Civico di Storia Naturale. Che cosa chiedete Leotta? Dunque, il nostro Comitato Sud Chiama Nord per l'ecologia integrale vuole continuare a porre l'accento sui luoghi della cultura e dell'aggregazione. Come vedete alle nostre spalle il Museo Civico di Storia Naturale? Che tanti anni fa era un punto importante anche per i tanti turisti che visitano il nostro paese durante la stagione estiva, ma poteva e può rappresentare anche un luogo di aggregazione per chi in questo paese ovviamente pratica la cultura, continua a gecere inutilizzato. Nella precedente gestione era stato avviato un iter con il Dipartimento Regionale per Turismo proprio per portare qui l'ufficio turistico regionale e far prendere nuova vita al Museo Civico. Noi abbiamo fatto un'interrogazione prima che decadesse il Consiglio Comunale con la collega Simona Fighiera per chiedere a questa amministrazione se intendeva proseguire in quel percorso o se avesse progetti alternativi per restituire questo luogo il prima possibile alla comunità giardinese. Abbiamo ricevuto da parte dell'assessore toscano la stessa e ormai consueta risposta evasiva e di poche righe, dove non si chiarisce utilizzando abbondantemente il condizionale se si vuole con convinzione proseguire in questo iter che era stato avviato dal precedente assessore, dal assessore Tadio, oppure se hanno dei nuovi progetti, dei progetti più incisivi per poter restituire questo luogo ai giardinesi. Noi riteniamo che debba essere concluso l'iter che è stato avviato in precedenza perché era già a buon punto e quindi vogliamo tornare a chiedere con forza la riapertura di questo luogo della cultura. Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti. Grazie.